Gli eterni tubi volanti messi a Taranto da Acquedotto Pugliese dovevano avere una funzione temporanea, momentanea, in attesa che venissero completati i lavori e guardate, siamo arrivati al punto che questi tubi maledetti fanno parte dell'arredo urbano. Mi trovo ora in Viale Virgilio, guardate un po', in presa diretta vi sto facendo vedere, questi tubi addirittura sono stati praticamente interrati, incassati sotto l'asfalto, quindi l'asfalto li ricopre anche, guardate un po' qui e ormai sono una cosa definitiva. L'amministrazione comunale tace e molto spesso capita che questi tubi si rompono, detto alla Tarantina maniera, scattano ed esce anche acqua ovviamente, ma al di là di questo abbiamo chilometri e chilometri, Viale Virgilio, Via Leonida, il Borgo Umbertino, non è più un qualcosa di momentaneo, di episodico, è diventato un qualcosa di, oramai, qualcosa che fa parte paradossalmente, assurdamente, vergognosamente dell'arredo urbano di Taranto. E allora mi rivolgo all'amministrazione comunale, signori voi dovete farvi rispettare dalle ditte, dagli enti pubblici, nella fattispecie da Acquedotto Pugliese. Acquedotto Pugliese si deve dare una regolata, questi interventi sono passati anni, signori di Acquedotto Pugliese, quando cazzo vi dovete muovere? Quando cazzo dovete intervenire? In che lingua ve lo devo dire? È mai possibile una cosa del genere? Qui si rischia di cadere. Sapete quanti anziani soprattutto inciampano lungo questi maledetti tubi? Perché la fase momentanea poi finisce, non può diventare una cosa ormai stabile, concreta. Guardate qui, una persona che entra nella macchina e rischia di cadere, ma anche una persona che scende dal marciapiede. Qui sono un intralcio, è una vergogna. Accumula sporcizia. E oltretutto, come mi suggeriscono alcuni cittadini, dietro questi tubi si accumula sporcizia. È una cosa grave, si annida sporcizia. E allora, caro Lucio Lonocce, mi rivolgo a te, sei un consigliere comunale, sei un componente del consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese. Vedo che vari dirigenti di Acquedotto Pugliese vengono in commissione, fanno tanto i precisini, fanno tanto i fighetti. A me i precisini non mi piacciono, non mi piacciono i fighetti, mi stanno proprio sulle scatole. Ma al di là di questi miei gusti personali, tra virgolette, ti dico, caro Lucio Lonocce, chiama i dirigenti di Acquedotto Pugliese e di che è mai possibile una cosa del genere? È mai possibile una cosa del genere? Ditemi voi, guardate un po'. Bene, scusate, ho detto più di qualche parolaccia, ma quando ci vuole, ci vuole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.